Il 19 novembre del 2001 sulla strada che va da Jalabad a Kabul venivano uccisi quattro giornalisti tra cui Maria Grazia Cutuli, unica italiana inviata del Corriere della Sera e questo è il ricordo di T9. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS E torniamo nella Capitale Grazie a tutti!